Direttore, io le posso dire che quei due partiti lì andranno a braccetto fra un po'. Ma c'è un'altra cosa, che l'Istituto XE ha fatto un'ulteriore indagine, tirando in ballo se in una ipotetica lezione ci fosse un raggruppamento di soggetti Novax, che vediamo che nell'ambito... Quello volevo dirle, quello è interessante. È stata una cosa che è cresciuta parecchio e XE ha fatto un'ipotesi di elezioni con una lista di Novax e senza una lista di Novax. Ebbene, quelli che ci rimettono maggiormente da una presenza di una lista Novax, che viene quotata addirittura al 7,8%, sono Fratelli d'Italia, ma soprattutto la Lega. Perché la Lega, senza una lista Novax, si accesta intorno al 17,2%, mentre con una lista Novax crolla al 14,6%. Ha una incollatura dal movimento... Ma Fratelli d'Italia, scusi che finisco il dato, passerebbe da un 18,5% senza una lista Novax al 15,6% con i Novax in campo. Mentre il Partito Democratico rimane più o meno stabile, perché lì va di uno 0,1% e si posiziona sempre... Dunque, la lista Novax è un fenomeno che in questi prossimi mesi, anche il prossimo anno, vedremo che sarà sorprendente, perché sono delle liste... La prima, se non erro, è quella di Paragone, che già comincia a vedersi presente nei sondaggi, che fino a poco tempo fa non esisteva nemmeno, adesso non ho sbaglio, un 1,5-2%, poi c'è ancora Italia, un'altra lista Novax, e volevo però dirle che le liste Novax, quelle che strizzano l'occhio, ha dei cittadini che fondamentalmente... Adesso chiamiamo Novax, ma sono dei cittadini che sono stati esclusi quasi completamente dalla vita civile, che sono stati e che si ritengono... E che dal primo che Draghi lo so ancora di più, perché gli stanno levando l'aria anche dal lavoro... Guardi, non andiamo su questo campo, perché sa che io sto... Cioè, questo tipo di politica che sta facendo Draghi, Speranza, guardi, non ne parliamo nemmeno, perché sono cittadini, come tutti gli altri, che pagano le tasse, fra l'altro sono trasversali, lei voleva dare un'identificazione, posso capire che mai sono un po' più della Lega e un po' più del centro-destra, però sono trasversali, hanno tentato, tempo addietro, di dare il mainstream, di dare un'identificazione come persone ignoranti, come persone poco istruite, come quello che si faceva, la stessa tecnica che si faceva con la Lega. Si ricorda che una volta dicevano che i leghisti erano ignoranti, erano buontemponi, erano... No, 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 quello che volevo dire... E finisce, no, meno, no, Max, prossimamente lo vedremo, perché questi cittadini, che sono cittadini a tutti gli effetti, che pagano le tasse, che hanno solo la colpa di non accettare il vaccino, per mille motivi, e ce ne sono tantissimi di motivi. C'è gente addirittura Novax che ha già fatto due vaccini, però non vuole fare il terzo, e quello è considerato anche quello Novax, e anche quelle persone lì hanno un po' di rancore nei confronti del governo, perché, guardi, mi lasci finire... Il discorso di un'oro... E' un'oro speciale che sta diventando una puntata fantastica... No, no, volevo solo chiudere così... E' interessante questo fenomeno, perché i partiti devono ancora capire che lì c'è una prateria di voti, perché queste persone non si sentono rappresentati, non andranno a votare né Lega, né qualsiasi altro partito istituzionale, e si rifiuteranno di andare a votare, a meno che non compaia qualche partito che dia l'idea di combattere contro il Green Pass e contro le loro ragioni. e dare rappresentanza a loro, hanno diritto anche loro di rappresentanza. In questo momento non hanno nessun rappresentante politico. Da un punto di vista politico io me ne sono accorto, lo sto dicendo, e tutti quanti mi guardano un po' storto. Vedremo più avanti, sa che io faccio le previsioni, per il punto mio possono arrivare anche un 10% in Italia, come potenziale. Mi sa che anche questa volta, se... Sbaglio ogni tanto, però ci vado sempre vicino. A pensare male si fa peccato, ma spesso volentieri Cisarzeca diceva che la gobba ha passato a miglior vita. Comunque anche questa puntata, che doveva essere uno speciale, per fare un po' il punto della situazione sul... Per fare un po' il punto della situazione sul...